Marco Grespigna Welker Industries al fianco di stelle nello sport in questa ventiduesima edizione un anno complicato non facile in cui però la voglia di essere al servizio del mondo dello sport vicino ai giovani è ancora più forte ed è ancora più importante sicuramente è proprio in questi momenti che bisogna investire bisogna stare vicini a questo tipo di iniziative Welker da sempre attenta anche al mondo dello sport al mondo della dell'attività fisica in generale quindi abbiamo deciso di sostenere un'iniziativa che è tanti anni che viene portata avanti in Liguria e quindi ci sembrava assolutamente opportuno anche perché Welker ha una serie di iniziative parallele sempre in Liguria molto molto interessanti. Una di queste il supporto al Genoa Calcio Femminile una realtà importantissima perché il calcio femminile oggi non solo è in grandissima crescita ma apre veramente il mondo dello sport a tantissime ragazze ed è una bellissima e piacevole novità. Sì assolutamente il Genoa il calcio femminile in generale è in grande ascesa è uno sport assolutamente importante da sostenere e abbiamo creduto da subito in questo gruppo di ragazze molto giovani che hanno una grande passione per lo sport e in qualche modo rispecchiano i valori di Welker quindi attenzione alla salute al benessere grande attenzione ai giovani in qualche modo ci sembrava quasi automatico portare avanti questo progetto oltre ovviamente a fornire con alcuni dei nostri prodotti tutta tutta la società Genoa dalla serie A fino alle giovanili. Welker è un'azienda nata circa vent'anni fa a Orvieto è una tipica piccola media impresa italiana quella su cui si basa la produttività del paese è importante dire che è un'azienda che parte dalla produzione arriva fino alla commercializzazione quindi tutto viene prodotto a Orvieto con materie prime assolutamente naturali e con grande attenzione nella loro selezione. Welker fondamentalmente copre una piccola multinazionale copre 20 paesi nel mondo dai paesi arabi fino al Brasile fino un po' a tutto il continente europeo ma nello stesso tempo ha una grande anche presenza e sarà sempre progressivamente maggiore in Italia. È nata come azienda prevalentemente ospedaliera quindi con prodotti di grande qualità e di grande con grande appunto efficacia proprio per poter assolvere i bisogni ospedalieri ma nello stesso tempo si è espansa sempre di più anche sul mercato e sui pazienti territoriali quindi cittadini in farmacia o in parafarmacia e comunque di libero accesso al pubblico. Prodotti che in particolare anche per chi fa sport sono spesso ideali? In generale Welker opera nell'ambito del Wunker, dello Skincare quindi la cura e l'igiene e la pulizia della pelle alcuni di questi prodotti sono particolarmente indicati anche per chi fa sport e in particolare per curare piccole ferite abrasioni comuni per tutti gli sportivi quando vanno a giocare a pallone o o in bicicletta o a qualsiasi altro sport in cui ci sia un certo contatto in qualche modo. E allora nel corso di questa stagione insomma vivremo insieme tanti appuntamenti. I prodotti Welker saranno anche uno dei premi del nostro contesto fotografico che da tanti anni portiamo avanti con migliaia di adesioni e partecipazioni. Il piacere e la voglia alla festa dello sport a settembre di poter tornare a vivere lo sport dal vivo anche perché a proposito di binomio sport e salute direi che veramente che è quello che da 22 anni cerchiamo di portare avanti lo sport non è solo gioia divertimento valori crescita ma è anche soprattutto prevenzione e salute. Assolutamente è un appuntamento a cui teniamo molto e speriamo sia uno dei primissimi in cui si potrà ritornare a stare insieme. Nello stesso tempo abbiamo pensato potesse essere qualcosa di interessante poter premiare uno dei vincitori dei vostri concorsi sempre molto creativi e sempre molto apprezzati e quindi abbiamo creato questo piccolo mix di prodotti che verranno consegnati appunto a un vincitore e nello stesso tempo cercheremo sempre di accompagnare lungo tutto il percorso della manifestazione che come sappiamo dura diversi mesi ed essere sempre presenti in qualche modo.